Davide, una sconfitta contro una delle corazzate di questo campionato, come la commentiamo? Sì, leggete tu su, non è questo il campionato, abbiamo anche una serie di partite importanti che ci saranno adesso e non sarà certo questa a buttarci giù, abbiamo intrapreso un percorso che non si ferma oggi, anzi prendiamo le note positive e andiamo avanti. Il calendario soprattutto all'inizio vi mette di fronte squadre di alta classifica, questo serve comunque ad aumentare la vostra fiducia, la vostra autostima in vista poi di quelli che saranno gli scontri diretti? Ma con fronte a prima diciamo che si sta parlando di un altro albinolè, che siano di vertice o di bassa classifica poco importa, a noi interessa fare punti, continuare a far bene perché abbiamo bisogno di strisce positive per tirarci fuori da queste situazioni. Punti che si dovranno cercare domenica a Turina? Per forza, andiamo a incontrare un'ottima squadra, un'ottimo allenatore, però noi andiamo coltello tra i denti perché solo questo possiamo fare.